Come ha trovato il porto di Andorra? Qua è la prima volta che veniva? Sì, gli impegni che mi hanno trattenuto a Genova in questo periodo, dove ho assolto oltre all'incarico di comandante della Capitaneria anche quello di commissario dell'autorità portuale, non mi avevano ancora consentito di venire qui ad Andorra. In verità, quest'estate, durante i sovralloghi e le vigilanze che abbiamo effettuato, sono imbarcato anche sul nostro elicottero e questa zona l'ho vista dall'alto e vederla anche oggi così sul posto. Non posso che dire che si tratta di luoghi bellissimi, di un contesto marittimo e portuale molto bello, molto favorevole per un turismo di qualità, si tratta di luoghi veramente di pregio e che il nostro paese e questa regione in particolare sa offrire non solo agli italiani ma a tutti coloro che possono e vogliono apprezzare questi luoghi così belli e così vicini al mare, dove il mare può essere goduto in maniera veramente completa. Quali le attività principali che si pensa di fare per il prossimo anno e magari per la prossima stagione turistica e qual è il focus soprattutto su Andorra e su L'Aigueglia, la prossima località che visiteremo? Noi come Capitaneria di Porto abbiamo il compito di sostenere e stare vicini a tutti coloro che sul mare lavorano o sul mare trascorrono il loro tempo libero. Cioè siamo al servizio degli usi civili del mare, pur essendo un corpo della Marina Militare siamo al servizio di coloro appunto che dal mare traggono il loro vivere o il loro tempo libero. Quindi per noi è importante che tutte le attività che si svolgono in questi contesti si svolgano in maniera regolare nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto delle risorse ittiche e nel rispetto reciproco affinché le tante attività che per esempio nel periodo estivo si svolgono sui nostri litorari particolarmente affollate, attività a volte tra loro anche poco compatibili tipo nuotare o andare in barca a motore, ecco che tutte queste attività possono svolgersi possono svolgersi nel rispetto delle regole, possono svolgersi nel rispetto reciproco e senza incidenti. Questo è il nostro compito, questo è il nostro dovere e anche quest'ufficio, l'ufficio di Andorra è al servizio di queste esigenze e credo che lo facciamo in maniera puntuale. Quest'estate è stata un'estate assolutamente serena, tranquilla, pur essendo stata un'estate che rispetto alle precedenti ha visto un incremento di presenze sui nostri 330 chilometri di costa Ligure un'estate che si è svolta all'insegna del rispetto dell'ambiente e senza incidenti di rilievo.